Nel 2011 sarebbero quasi 330.000 lavoratori con i requisiti necessari e sufficienti ad andare in pensione di anzianità o di vecchiaia e tutti entro l'anno faranno la fatidica domanda di quiescenza. Questo esercito di lavoratori non resterà impigliato nelle maglie più strette della riforma pensionistica barata dal governo a differenza di oltre 200.000 tra uomini e donne, dipendenti e autonomi che invece per un pugno di settimane di età anagrafica o di contributi versati dovranno posticipare non di poco il pensionamento arrivando a restare in attività fino a sei anni e mezzo in più. Le classi più penalizzate sono quella del 1951 e del 1952 che nel 2011 e nel 2012 avrebbero raggiunto i 60 e i 61 anni di età ma anche gli anni necessari per andarsene in pensione. E allora vediamo cosa cambia per loro. Il dipendente classe 51 con 35 anni di contributi che ha iniziato a lavorare a 26 anni avrebbe aspettato un anno invece dovrà lavorare altri cinque anni e sette mesi. Il dipendente nato nel 1952 con 36 anni di contribuzione che ha cominciato a lavorare a 24 anni sarebbe andato in pensione come il suo collega del 1951 invece gli toccherà lavorare sei anni e sette mesi in più. La donna dipendente nata nel 1951 con 35 anni di contributi e inizio dell'attività lavorativa a 26 anni dovrà attendere altri cinque anni invece di andare subito in pensione. Il lavoratore dipendente nato nel 1954 e con 40 anni di contributi invece di aspettare un anno dovrà aspettare due anni e due mesi. La dipendente pubblica nata nel 1952 e con 35 anni di contributi con le vecchie regole avrebbe atteso cinque anni con le nuove lavorerà 15 mesi in più. Non tutti pagheranno l'IMU, la nuova imposta municipale unica che dal 2012 prenderà il posto dell'ICI e che varrà anche per la prima casa. Chi infatti vive in un'abitazione dal basso valore catastale sotto i 300 euro non dovrà sbozzare una lira se il comune sceglierà una liquota del 4 per mille o inferiore. In generale l'IMU avrà una liquota standard del 7,6 per mille modificabile dai comuni di tre punti verso l'alto o il basso che si applicherà però ad immobili diversi dalla prima casa. Per l'abitazione principale l'aliquota è stata fissata al 4 per mille variabili di due punti verso l'alto o verso il basso con una detrazione di 200 euro. La vecchia ICI prima casa aveva una detrazione di 103 e 29 euro. L'IMU si calcolerà su rendite catastali rivalutate del 60%. Vediamo allora due esempi concreti. Nel caso di un appartamento di 4 vani a 3 in zona semicentrale con rendita catastale attuale di 846,99 euro l'IMU potrà variare da 84 ad 853 euro se prima casa e da 654 a 1508 euro se seconda casa o altro. Per un alloggio di 4 vani a 4 in periferia valore catastale attuale 599,09 euro l'IMU varierà da 1 a 403 euro se prima casa e da 462 a 1.066 euro se seconda casa o altro.